ed eccoci qui, Juve che vince 1 a 0 Gatti, la decida Gatti, bella partita anche se siano stati pochi tir in porta 2 a 1 per quanto riguarda tir in porta però questa è stata una partita molto molto divertente soprattutto secondo tempo negli ultimi minuti davvero mamma mia non serio nel Napoli che però raccoglie a 0 perché spreca una marea di occasioni davanti alla porta quindi quando fico sì dopo è ovvio che alla prima occasione l'avversario te purga però c'è non segnare le Napoli che gioca però non ottene punti quindi alla fine qui gioca quando te parli nel calcio ma se non ottenghi punti ricevi solo critiche per quanto mi riguarda poi capirai a perde contro la Juve tanto non c'è poca rivalità tra loro quindi però è stata una buona Juve secondo me che ha capitalizzato al meglio tutte le occasioni le poche che c'ha avuto e Gatti sta diventando un fattore fattore Gatti fattore che come dicevo l'altra volta stavolta non ha segnato in zona di Salini ma Gatti è davvero top secondo me ma già quando era in Serie B già si vedea che era un buon giocatore quindi conferma anche in Serie A che non è mai facile anche perché c'è un bel dislivello secondo me tra Serie B e Serie A e quindi bene così per la Juve che va momentaneamente al primo posto e quindi io avevo detto su pronostico Instagram x o gol e me c'è un cazzo però non mi sono dato retta perché ce ne ha giocato in atto che se magari andasse in porto mancano due minuti per il Lenz e qualche altro minuto per l'età fevalenza speriamo bene comunque bella partita anche se con pochi tini in porta parecchie ammunizioni soprattutto verso la fine mamma mia e quindi niente ci seguimo l'estate partita di Serie A domani sicuramente mi aspetto sicuramente una risposta dell'Inter anche forti intanto togli mamma mia che tappe valenza se stai se mai avrei a rambol tre espulsioni addirittura mamma mia che macello per carità che tappe valenza davvero si stanno a scannare come i porci che macello comunque bella partita se devo essere sincero mi sono divertito non pensare non pensare una pera un po' più cruza a poca occasione invece alla fine bella partita se devo dire la mia e quindi niente appuntamento a domani speriamo che vada in porto questa locata speriamo che fiscano il più presto possibile e niente appuntamento a domani grazie a tutti Grazie a tutti.